Mi sono detta, buongiorno ciao a tutti e ciao a tutte, mi sono detta no no no, prima che apro tutto devo assolutamente fare un video perché sono troppo contenta, stavo per uscire tra l'altro, stavo per uscire e mi stavo domandando ma insomma questo pacchetto quando arriva? Ho ordinato due giorni fa due cose da Hay Mountain e ecco di solito sono molto veloci, di solito il pacchetto arriva un giorno dopo, nel senso uno ordina poi passa un giorno e il secondo giorno arrivano tutte le cosine, adesso questo invece era il terzo giorno e infatti mi stavo già agitando e preoccupando e mi domandavo ma dove è il pacchetto? Invece stavo già per uscire, avevo già la borsa, avevo già le chiavi in mano, ecco bling blong suona il postino, tra l'altro un postino nuovo, un ragazzetto, anche molto carino, educato soprattutto che non fa mai male e fa sempre piacere e mi ha portato questo pacchetto, allora questo è il pacchetto di Hay Mountain, l'ho aperto, l'ho aperto e come al solito dentro c'è il fieno e le cose sono impacchettate, implasticate E' incredibile perché ci sono talmente tante cose, vedete qui il fieno solito di Hay Mountain, il fieno con cui arriva il pacchetto, con cui sono avvolte le cosine, imballate le cosine e questi sono i due pacchetti di plastica, c'è questo, qui dentro dentro questo pacchetto di plastica ci sono le uniche due cose che ho ordinato Che sono questa scatolina rotonda qui e quest'altra scatolina rotonda e tutto il resto, poi ci sono tre provine, tre provine che avevo richiesto io, avevo chiesto se mi mandavano tre provine Tutto il resto delle cose che ci sono in questo pacchetto sono arrivate in regalo, sono arrivate così a sorpresa, soprattutto questo Allora questo, scusate tossisco perché ecco lo spostamento di polvere Allora questo che cos'è? Ho già sbirciato chiaramente ma taglio la confezione, l'implasticamento per aprirlo Questo è il mio gel doccia preferito in assoluto di tutti i tempi di Hay Mountain, incredibile Mi hanno mandato una confezione Give My Love to Rose Shower Gel, mi hanno mandato una confezione da 200ml Non so se sono riuscita a vedere qui, 200ml Io non ce l'ho mai fatta ad ordinare una confezione da 200ml, ho sempre preso una confezione piccina che è piccola così da 100ml Invece adesso ho un gel doccia Give My Love to Rose completamente gratis Arrivato il regalo, infatti vedete qui c'è scritto sopra Goody Il Goody è quella cosa che vi arriva in regalo perché voi, e in questo caso io, copiate e incollate la parole Che è questa frase presa da una canzone di solito che vi arriva all'interno della newsletter settimanale di Hay Mountain E solo per questo piccolo lavorino di copia e incolla Hay Mountain vi manda gratuitamente un Goody Ora i Goody per tanti mesi sono stati prodotti solidi che a me, insomma Scusate, si è spenta la fotocamera, si è spenta la fotocamera perché ogni tanto le va di spegnersi I prodotti solidi stavo dicendo di Hay Mountain, non ci ho mai fatto più amicizia di tanto Apriamo questo prima che si rispenga di nuovo la fotocamera Quindi apriamo anche questo e vediamo che cosa c'è dentro Incredibile, incredibile, incredibile Allora prima tolgo tutti i robini e li metto qui, così li vedete anche voi Prima tolgo tutti i robini e poi li vediamo uno per uno, vediamo che robini sono Apriti, apriti, apriti Mettiamo anche questo qui Poi c'è anche un saponcino, non me ne ero accorta, il saponcino è un pochino distrutto chiaramente perché a stare prestato qui dentro insieme alle altre cose Poi ci sono altri due robini e li mettiamo uno sopra l'altro Poi c'è un altro robino, è così e poi c'è il profumino solido Allora la bustina adesso è vuota Dunque vediamo prima le cose, tra l'altro c'è un odore di pesca pazzesco C'è qualcosa alla pesca dentro questi robini Allora le due cose che avevo ordinato io sono queste Questo era un ordine da 30 euro scarsi Avevo ordinato questa che è la hair cream La hair cream, tra l'altro mi sono appena lavati i capelli Mezz'ora fa mi sono lavati i capelli e mi sono messa la hair cream nella provina Una provina che mi era arrivata così, in un cosino così piccino E che tra l'altro mi è durata un mucchio L'ho quasi finita oggi mettendomela sui capelli appena lavati La hair cream, adesso possiamo anche esercitarci a pronunciare il nome di questa hair cream Dornrushin Dornrushin Vabbè, sto giocando, sto giocando Allora questo è l'inci della cremina per i capelli La scadenza è il 5-5-2013 È scritto qui 5-5-2013 Cremina per i capelli, cremina per i capelli L'altra cosa che ho ordinato era questa Nothing but roses Il profumino solido alla rosa E lo giriamo E qui me lo devo mettere un pochino vicino Perché è scritto strano La scadenza è il 5 giugno 1914 1914 che sto dicendo 2014 E va bene Queste erano le due cose che ho ordinato E le mettiamo qui insieme al gel doccia Ecco, mettiamo qui così, brave, carine Adesso vediamo i regalini Allora, i regalini Questo è il saponcino spiaccicato Ma è veramente un saponcino? Vediamo un po' Ah, I'm going bananas Ah, sì È un sapone cremoso Che si chiama I'm going bananas In realtà I'm going bananas È molliccio È un po' molliccio Forse lo devo mettere nel frigo Non lo so Lo devo ricompattare Vedete che si ricompatta facilmente I'm going bananas C'è anche uno shampoo Se non erro Che si chiama Quasi così E che ha l'odore di banana Allora è questo che Sì, è questo È questo Ha un odore fantastico Che a me sembrava quasi pesca Perché prima mi sono Mi sono strafogata tre pesche In realtà In realtà è una specie di Banana zuccherosa fruttata Un odore di banana zuccherosa fruttata Questo mi fa molto molto piacere Mi ci laverò le manine Molto molto volentieri Perché è un odore stupendo Vediamo invece le scatoline Ecco, allora Le scatoline le prendo una per una E tra queste scatoline Che sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei Ce ne sono tre Che dovrebbero essere le provine Che io avevo chiesto Allora c'è questo Questo si chiama Peach Peach Sugar scrub Riuscite a leggere Chissà se questa fotocamera Sì Peach Peach Scritto in questa maniera Fa il suono quasi Del vocabolo inglese Peach Allora c'è qualcosa alla pesca Che è questo Lo sugar scrub Sì Odore fantastico Odore fantastico Di pesca zuccherosa E allora Questo è uno sugar scrub Con gli sugar scrub di High Mountain Ci vado d'accordo Così così Ne ho uno solo Che tra l'altro Ha un odore Pazzesco Buonissimo Di cose caramellose Ed era uno scrub Che era uscito per Natale E per l'odore Io l'avevo preso E ce l'ho ancora Lo uso ogni tanto Lo uso ogni tanto Alternandolo ai sali Solo è troppo oleoso Per i miei gusti Ma anche i sali Che sto usando In questo periodo Della PHP Beauty No PHP è basta Senza Beauty Anche loro sono molto oleosi Quindi Eh vabbè Gli scrub a volte Devono essere oleosi A quanto pare Per le ditte Di prodotti Che 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 Ci tengono A fare le cosine Un po' in casa Un po' con ingredienti naturali Poi c'è Lucky Duck Lucky Duck Hair Cream E questo era Una delle previne Che era Che avevo richiesto Lucky Duck Hair Cream Perché dal momento Che mi sono decisa A cominciare A assaggiare Le Hair Cream Di A Mountain Allora ho pensato Adesso chiedo Una provina Di tutte e tre Le Hair Cream E niente E vediamo Quali sono gli odori Quali sono gli effetti Vediamo questa Di che cosa profuma Oddio Questa è buonissima È panna È praticamente panna Odora di panna Vi giuro Odora di panna Odora di panna È all'aspetto anche di panna Ma siamo sicuri Che non sia panna È una consistenza Completamente diversa Dall'altra Hair Cream Da quella che ho appena Ordinato In confezione grande Questa qui Sotto al profumino Questa La scatolina Tonda grande Quindi questo Lucky Duck Odore di panna Odore di panna Totale Poi Summer in the City Shower Smoothie Summer in the City Shower Smoothie È evidente Che hanno mandato Tutte queste provine Gratuite Anche per invogliare Le staranno mandando Per invogliare i clienti A comprare La collezione Estiva Perché Summer in the City Shower Smoothie Infatti è un qualcosa Smoothie È un qualcosa Di estivo È un qualcosa Che hanno fatto Apposta per l'estate Odore fresco Limonoso E anche il colore È fresco Limonoso È un odore Che È carino La mattina presto Però ecco Non è tra i miei odori preferiti Questo Questo l'hanno mandato Di testa loro Poi Hey What's that Hey What's that Questo è un Hand and foot cream Quindi una crema Per le manine E per i piedi Mi piace che Tra le provine Gratuite Che decidono loro Mandano spesso Delle provine Di creme Per le mani E per i piedi Questo mi piace Perché sono sempre utili Adesso ho il naso Confuso Questo ha un odore Molto delicato Di Oddio Sapete Questo ha un odore Delicatissimo Di fieno Di fieno È lo stesso fieno Che sta qua dentro Lo stesso odore Identico Bellissimo È un odore Super super delicato Hey What's that Infatti Hey 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 È il fieno Quindi cremina Per le mani Per i piedi Dicevo Molto comode Queste provine Che mandano ogni tanto Di loro sponte Di creme Per le mani Per i piedi Perché io me le metto In borsa E ad ogni occorrenza Le uso E poi Beach Beach Bum Beach Bum Body Scrub Beach Bum Body Scrub Che roba è questa Aspetta fammi sentire Anche questo caramelloso in direzione limone E scusatemi si è rispettata di nuovo la videocamera La fotocamera Non lo so perché fa così Fa così quando cambia la temperatura Quando cambia la temperatura E c'è molta luce improvvisamente Luce naturale Questa fotocamera fa un paio di giorni di follie E le follie si esprimono nel senso che Si materializzano nel senso che la fotocamera si spegne ogni tot di secondi e di minuti E poi dicevo L'ultima scatolina arrivata in omaggio E questa è l'altra hair cream disponibile Che si chiama Woodstock hair cream Questo Woodstock Il profumo Woodstock La fragranza Woodstock È disponibile in vari tipi di prodotti C'è uno shower gel C'è uno shampoo Woodstock E io sono sempre stata curiosa di sentire qual era l'odore Adesso lo scopriremo Allora E' un odore incensoso E' un odore di incenso sessantottino Non è un odore che mi piace particolarmente Sì è un odore di incensi E' un odore di case sessantottine Come dire E vabbè è giusto Woodstock Che altro poteva essere E quindi rimettiamo insieme un po' Allora rifacciamo un po' Un calcolo delle cose Vediamo un po' Ci sono due body scrub E due hair cream Allora ci sono due body scrub Che sono Questi due Uno è il peach E uno è il beach bum E uno è verde E uno è arancione Quindi ci sono i due body scrub Li mettiamo qui Poi ci sono i due hair cream Tutte e due scritte a mano Così a penna E la Woodstock hair cream E la Lucky Duck hair cream La Lucky Duck ha un odore buonissimo Buonissimo E sembra panna Sembra veramente panna Woodstock ha una consistenza diversa Decisamente diversa Perché ha la stessa consistenza Più o meno Forse un pochino più cremosa di Dorn Reshen Come si chiama La cosina La rosa Questa è la scatolina grande Che ho ordinato E invece la Lucky Duck ha veramente una consistenza Come panna E panna E come panna E anche l'odore di panna Una riannusatina Troppo buono Troppo buono Troppo buono E poi che altro c'è Poi c'è la crema per le mani Hey what's that Questa E poi c'è il Summer in the City Shower smoothie E praticamente se io mi metto in una borsina Tutte queste provine Posso partire tranquillamente per le vacanze C'è una partenza imminente Nel senso Si sta cercando Si è aperta la caccia Ai voli convenienti Quindi c'è una partenza imminente Credo proprio che alcune di queste cosine Me ne porterò dietro Ciò che mi ci trovo Vi apro il profumino solido Giusto per farvi vedere Perché tanto adesso ormai sto chiacchierando E quindi E quindi niente Questo è il profumino solido Aperto E' così E' fatto in questo modo E' un profumino solido Normale Odore Odore di rosa Odore di rosa pulita Che bello Odore di rosa pulita Che è una fragranza speciale La rosa pulita E poi la hair cream Con il nome impronunciabile Questa sarà un problema Quando la metterò nei favoriti del mese Sarà veramente un problema Pronunciarla Pronunciarla Dornröschen Dai su Ce la puoi fare Quante storie Ed è fatta così La copertura qui E in questo modo Si fa splat E si apre Così E ha l'odore di rosa Ha un odore di rosa Ha un odore di rosa Che però E' diverso dal profumino solido Alla rosa Perché è un odore più cremoso La richiudo La richiudo Adesso ormai E' arrivata tardi Per questo lavaggio di capelli Meglio che è arrivata tardi E' arrivata mezz'ora dopo Che me l'ho lavato i capelli Ma meglio Meglio Perché così faccio in tempo Ho ancora un lavaggio di capelli Credo Con la provina Che mi avevano mandato l'altra volta E beh niente Questo è tutto Questo è tutto Godetevelo questo video Magari riguardatelo Perché credo che Credo che siamo a posto Qui con Con i video haul Per un po' Credo che siamo veramente a posto Basta Ciao a tutti Ciao a tutti Buona giornata E mattina Sono le 11 Sto uscendo Sto facendo quello che stavo già per fare Ossia sto proseguendo la mia giornata E uscendo Perché qui ci sono le insalate Da comprare Io ho sempre un problema di insalata Devo sempre uscire per comprare l'insalata Perché è voluminosa e molle Nel senso è delicata E quindi non si può portare spiaccicata Insieme con l'altra spesa Devo uscire apposta Solo per l'insalata Ma io e l'insalata Ci facciamo a vicenda Tante gentilezze Perché ci vogliamo veramente molto bene Basta Ragazzi ragazze Questo video è finito Io me ne vado Ciao 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 Agito la fotocamera Invece di salutarvi Ciao